Sullo sviluppo sostenibile il ministro dell'economia Gualtieri promette un cambio di passo confermando il lancio di Green Bond. Intanto il rapporto ASVIS traccia un quadro in chiaro scuro per l'Italia rispetto all'agenda 2030. Barbara Capponi e Giorgia Cardinaletti. Il governo emetterà Green Bond indirizzati alla sostenibilità e sono fiducioso che avranno un'accoglienza positiva sul mercato. Con Industria 4.0 daremo incentivi e processi produttivi nella direzione dell'economia circolare. Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha la presentazione del rapporto ASVIS. Noi abbiamo bisogno di un cambio di passo, un cambio di passo in Italia e in Europa e il governo vuole impegnarsi a promuovere e realizzare questo cambio di passo. Gualtieri aggiunge un governo deve essere coerente con i suoi obiettivi ambiziosi. La manovra avrà il compito di rimettere il paese sulla strada della crescita e della stabilità. Non solo stop all'IVA, non dobbiamo smarrire la svolta della sostenibilità e del Green New Deal. Tra le prime misure è l'istituzione di un comitato interministeriale per il contrasto ai cambiamenti climatici. Per il commissario europeo all'economia Gentiloni, l'impegno straordinario per un Green Deal europeo è forse la maggiore priorità per la nuova commissione. Il presidente della Camera, FICO, sottolinea come bisogna superare, come l'agenda 2030 ci indica, la logica della crescita illimitata e a tutti i costi attraverso un riassetto radicale dei processi di produzione e di consumo. Intanto oggi l'Istat rileva che nel secondo trimestre del 2019 il deficit è sceso, la pressione fiscale è salita e il PIL non è a zero, ma è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e su base annua. Il futuro del pianeta nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030. Anche l'Italia fa la sua parte. Oltre la metà degli obiettivi sono quelli in cui abbiamo fatto passi avanti tra il 2016 e il 2017. Nutrizione, salute, equa istruzione, uguaglianza di genere, bene anche l'accesso ai sistemi di energia economici e moderni, l'innovazione, i modelli sostenibili di produzione e la lotta al cambiamento climatico. Ancora abbiamo moltissimo da fare, soprattutto nella distanza rispetto agli obiettivi. Ricordiamo che l'agenda 2030 non prevede soltanto un miglioramento rispetto al passato, ma degli obiettivi molto precisi. Sei sono quelli in cui il paese è peggiorato, la povertà è in aumento, male anche il lavoro. L'Italia è il maggior numero dei cosiddetti NEET, giovani che non studiano né lavorano. Città meno inclusive e sostenibili, tutela di oceani ed ecosistema terrestre e infine la giustizia, invariata la situazione per la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Italia stabile anche nella riduzione delle disuguaglianze.